Dopo i recenti aumenti dei tassi di interesse, dopo l'aumento del rendimento delle obbligazioni, dopo il taglio da parte della Fitch del rating degli Stati Uniti d'America, può aver senso investire nei treasury, può aver senso investire nell'obbligazionario e soprattutto ci sono alcune classi del mondo obbligazionario che potrebbero eventualmente rispetto a un investimento che uno andasse a effettuare oggi portarci dei ritorni nei prossimi trimestri, nei prossimi anni, anche dell'ordine del più 60% in termini di capital gain? Bene, oggi cercherò tramite questo contenuto di rispondere a tutte quante queste domande ben ritrovati qui sul mio canale. Quello che vi voglio dire è che vi mostrerò alcune considerazioni, riflessioni, opinioni personali degli strumenti potenzialmente su cui poter investire e anche degli strumenti in cui recentissimamente ho investito e anche il modo di farlo. Ovviamente tutto quanto ciò sarà scopo didattico, informativo, di intrattenimento, un'espressione di quello che faccio io e non deve per nessun motivo rappresentare un consiglio finanziario di investimento. Quindi vi invito ad operare i vostri ulteriori approfondimenti. Ma non perdiamo più tempo, vi vado a condividere lo schermo del mio computer, rimanete fino alla fine perché cercherò proprio di rendervi il più completo possibile il quadro della situazione se vi interessa realmente questo argomento. Iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per sostenere tutto quanto il mio lavoro qui sul tubo. Cominciamo i nostri studi da una notizia recente che ha fatto un po' di scalpore nel mondo finanziario ed economico ovvero il taglio per quanto riguarda il giudizio proprio di rating da parte della Fitch riguardo gli Stati Uniti d'America. Considerato uno dei paesi più sicuri al mondo con la sua AAA e invece ora vi è stato un taglio e quindi siamo passati alla doppia A+. Ovviamente se noi operiamo dei confronti con altre situazioni obbligazionali direi che non è una tragedia assoluta, quindi non è che questo vada a rappresentare la fine del mondo. È chiaro, negli anni potrebbero esserci dei cambiamenti, tuttavia quello che vi voglio dire è che purtroppo il problema del debito sempre più rilevante, importante e gigantesco in termini assoluti e anche in termini relativi ad esempio al prodotto interno lordo non riguarda ormai soltanto uno o pochi paesi ma sta coinvolgendo praticamente quasi ogni nazione del mondo. E quindi anche gli Stati Uniti d'America non sono esclusi da questa dinamica. Ma se noi andiamo a ragionare sull'Italia perché è ovvio che molti di voi che mi stanno ascoltando magari vanno a investire sulle obbligazioni italiane ad esempio le agenzie di rating più o meno ci fanno sempre oscillare attorno alla AAAB e quindi questa adesso è la condizione per farvi rendere conto perché mi dovrebbe essere più spaventato da un investimento in traditional americani piuttosto che magari andare a investire anziché diciamo andare a investire in Italia ce lo dicono anche le agenzie di rating questa è la situazione. Ma procediamo con ordine e vediamo adesso un innalzamento del rendimento obbligazionario americano se lo studiamo, diciamo se ci andiamo a concentrare su quello che poi è un po' un benchmark di riferimento ovvero il rendimento dei tradizioni americani con scadenza decennale ormai è circa un anno in cui vi è un'oscillazione fra un 3.25 e un 4 quindi questa è la situazione noi diciamo l'obbligazione non riesce a portarsi molto più in là perché vi è sempre questa convinzione che nei prossimi trimestri vi sarà qualche taglio per quanto riguarda le tasse di interesse e quindi l'obbligazione cerca di andare ad allinearsi di andare ad anticipare un po' quello che è il mondo dei tasse di interesse generalmente parlando e quindi andiamo avanti e vediamo che effettivamente le obbligazioni si alzano in termini di rendimenti e vanno anche ad abbassarsi in termini di quotazioni quando vi si alzano i tassi di interesse ma anche quando il mercato non fa incetta di queste obbligazioni quando ad esempio non vi è più il sostegno in questo momento da parte di una banca centrale che si va a riempire va proprio a mettere in bilancio, in pancia, in portafoglio obbligazioni degli Stati Uniti d'America e lo vediamo da questo grafico quindi siamo stati abituati in linea generale a questo sostegno e sta avvenendo un po' meno negli ultimi trimestri quindi vi è un ristringimento, una restrizione, una politica restrittiva non abbiamo una politica espansiva da parte della Federal Reserve questo proprio perché si vuole contenere l'inflazione e terminare quello che è il classico ciclo espansivo per poi ripartire con un nuovo ciclo questa è d'altronde la dinamica della ciclicità normale delle economie e quindi andiamo un po' a vedere qua quello che è l'andamento dei tassi di interesse abbiamo detto che vi è una sorta di allineamento e qual è la scommessa di chi come me adesso sta cominciando sempre di più a mettersi in pancia le obbligazioni è quello che una volta raggiunto il pivot e le tasse di interesse e quindi diciamo anche una sorta di pivot per quanto riguarda i rendimenti obbligazionali questi possono proseguire qualche mese, qualche trimestre al massimo poco più di un anno o qualcosa del genere salvo poi andare a decrescere perché l'economia andrà inevitabilmente in difficoltà e quindi ricominceranno quelle che sono le manovre espansive fra tutti i tagli dei tassi di interesse e questo cosa andrà a comportare? ovviamente un innalzamento magari anche importante abbondante in termini percentuali delle quotazioni delle obbligazioni quindi andiamo a vedere un po' ad esempio le dinamiche di TLT questo è un ETF estremamente sensibile ad assi di interesse molto di più di un decennale o di obbligazioni a 5-7 anni ricordiamo che le obbligazioni che rispondono maggiormente al cambiamento della politica di assi di interesse sono quelle che hanno una scadenza più lunga quindi se pensiamo di voler tentare di speculare o comunque di guadagnare il più possibile da un cambiamento di paradigma dei tassi di interesse uno strumento come un ETF con obbligazioni con delle scadenze ventennali ventennali o maggiori è sicuramente una buona idea tanto è vero che vediamo qui l'andamento di TLT e guardate che crollo c'è stato veramente incredibile rispetto qui ai massimi del 2020 quando le obbligazioni non rendevano praticamente nulla quando avevano raggiunto praticamente la massima possibilità di manovre espansive guardate da quel momento ad oggi questo strumento sta perdendo il 44% che è veramente tantissimo perché laddove si ritornasse magari fra qualche anno ai valori precedenti questo ETF quasi andrebbe a raddoppiare quelle che sono le sue quotazioni allora ora vi mostro degli ETF equivalenti o molto simili perché noi non possiamo andare a comprare TLT in quanto siamo investitori europei è chiaro che se voi invece vi trovate in America o in un'altra situazione oppure siete degli investitori professionali potete andare a comprare TLT comunque ricordatevi sempre che è un ETF non armonizzato quindi con tutto quanto quello che ne consegue a livello fiscale vi vado a mostrare quelle che sono le alternative e ve le vado anche a segnalare in descrizione vi metterò gli ISIN e anche il Taker questo è l'ETF che ho scelto io e ovviamente fa parte di un diciamo gruppo di ETF e fondi quindi va un po' a completare quello che è il mio universo obbligazionale di investimenti in questo momento vi dico anticipo anche che non ti devono fare le cose a casaccio bisogna scegliere delle percentuali che abbiano comunque un minimo di senso ma a breve ci arriviamo si tratta dell'iShares vedete il Treasury Bond 20+, quindi il più simile possibile è chiaro che quando noi andiamo a comprare TLT quindi l'ETF di prima se andiamo a osservare le quotazioni vediamo i valori assoluti però non facciamo i conti con quello che è il tasso di cambio perché esponendoci in dollari mettete caso che vi sia una variazione importante in qualche anno di cambio è chiaro che da una parte potremmo essere favoriti quindi laddove il dollaro perdesse nei confronti voglio dire l'euro perdesse nei confronti del dollaro è chiaro che uno potrebbe esserne favorito più si rafforza il dollaro più andiamo a guadagnare ma laddove l'euro riguadagnasse invece nei confronti del dollaro potremmo anche perdere tanti soldi siccome non possiamo ovviamente prevedere queste dinamiche per andare a escludere quindi da una parte rinunciamo magari a un boost di guadagno quindi a un ulteriore guadagno di 10-20 punti percentuali però ci mettiamo anche al riparo magari da un euro che si mangia a un certo punto il dollaro perché non si sa mai quindi ci mettiamo dal riparo di una perdita di decine di punti percentuali quindi per proteggersi dal tasso di cambio e esporci solamente e unicamente laddove lo desideraste alla dinamica dell'andamento delle votazioni dei bond dei trovesi americani con scadenza lunga questo è lo strumento perché vedete qui la parolina magica ci fa capire che è eggiato praticamente è coperto in euro ci dobbiamo solo preoccupare dell'andamento delle votazioni è come se comprassimo TLT ma non siamo soggetti ai pericoli del cambio certo questo ha un po' di costo all'interno ovviamente dell'ETF però direi che fa niente e quindi andiamo un po' a vedere quella che è la situazione guardate qui una dinamica molto molto simile in termini di quotazioni con i massimi del 2020 vedete riconoscete sicuramente un andamento simile a quello di TLT è chiaro qui ci sono dei dividendi è a distribuzione quindi io posso qui togliere i dividendi inclusi e questi movimenti soprattutto negativi qui si estremizzano quindi nel mentre ovvero laddove uno fosse convinto che nei prossimi trimestri anni si potesse rivalutare questo strumento tramite un taglio di tasse di interesse e quindi ritornare a delle votazioni vicine quantomeno ai massimi precedenti o comunque sai più elevate guadagnare parecchi punti percentuali nel mentre vediamo quale dividendo o meglio cedola andrebbe a prendere ecco in questo momento le attuali quotazioni vedendo quanto rilascia l'ETF un 3.52 ecco il rendimento attuale da dividendo è un 3.52 poi sappiamo anche comunque la tassazione dei treasury comunque la tassazione obbligazione è una governativa a livello fiscale quindi è più conveniente rispetto diciamo ai dividendi ordinali e quindi vediamo anche che in passato ad esempio ce l'andavo a mettere in portafoglio nel 2021 dava 1.63 qui dava un 3.52 vedete qui i dividendi in euro vediamo un po' la distribuzione ogni 6 mesi guardate vedete qua ad esempio 004 operazione qui 005 vedete 006 non è che vi sia una differenza gigantesca ma è chiaro che se le quotazioni crollano e la cedola diciamo rimane simile è normale che la percentuale sale comunque questo è un momento diciamo abbastanza favorevole quindi nell'attesa che si vada a compiere questa dinamica e il potenziale di capital gain perché nessuno ci può assicurare nulla nell'attesa ci prendiamo in questo momento un 3.52 dove all'anno esistono altri strumenti ve li vado a mettere praticamente c'è lo stesso che è in accumulazione e questo crea un effetto compounding un effetto interesse notevole è normale guardate qui ad esempio ho messo il massimo vedete qui non troviamo il rosso come prima perché io ogni anno magari vado in questo momento a sommare un 3.50 e poi si va a reinvestire di nuovo su quel 3.50 in più insomma le sono le dinamiche dell'interesse composto però qui non siamo coperti dal cambio quindi questo è un cambio aperto non è necessariamente un male dipende qual è la vostra visione del dollaro probabilmente sarebbe coerente secondo me se qualcuno per x motivi avesse deciso di esporsi ad esempio a livello azionario solamente sull'S&P 500 con cambio aperto allora tanto vale esporsi in un'unica economia in un'unica valuta se già lo stiamo facendo e allora però sfruttiamo tutta la correlazione la decorelazione che c'è fra gli strumenti ricordiamoci anche che ad esempio quando il mercato azionario crolla solitamente anche qui non esistono garanzie ma assolutamente a livello statistico il dollaro si apprezza quindi se noi compiamo questo strumento per proteggerci anche da una potenziale crisi o da un potenziale crollo del mercato azionario il cambio aperto va diciamo a ridurre quelle che sono le nostre perdite quindi porterebbe un'accelerazione in più ai guadagni di questo strumento quindi il mercato ci andrebbe a coprire comprando obbligazioni e le obbligazioni potrebbero guadagnare molto di più con il cambio aperto perché il dollaro si rafforza mettete anche caso che oltre al mercato che compra le obbligazioni e fa asserire le quotazioni ci potrebbero essere tagli di interessi quindi questo porterebbe un'ulteriore accelerazione sarebbe una sorta di circolo virtuoso però siccome nulla è scontato nulla è deciso non prevediamo al futuro tendenzialmente diciamo un europeo che si espone a un mercato globale europeo e vuole però mettersi anche in portafoglio qualcosa soprattutto nel mondo obbligazionario che sia al di fuori dell'area euro la regola vuole non scritta ma la regola vuole che le obbligazioni uno si le metta sempre in portafoglio con copertura in euro quindi questo vale per ETF che investono a livello globale ETF che investono magari in Cina ETF che investono nel mercato emergente il consiglio è andato a verificarlo di qualunque consulente finanziario degno di nota sempre quello di andarsi a coprire in euro ma anche sui manuali lo troviamo però uno per x motivi o per la propria visione o per chi vive in un'altra area insomma le ragioni sono tante potrebbe decidere di optare per un cambio aperto andiamo a vedere qui anche la possibilità del cambio aperto con distribuzione quindi ve lo metto e vediamo anche un'altra possibilità ovvero quello del target duration molto elevato però sull'area euro secondo me forse un po' meno interessante magari all'area anche potenziale della rivalutazione che c'è sugli Stati Uniti d'America però ve lo andate a studiare perché insomma anche qui ci potrebbero essere dei movimenti molto interessanti voglio dire le dinamiche sono le stesse quindi se volete concentrarvi sulla lunghissima scadenza europea andate qui il rendimento attuale da dividendo è 1,69 quindi io direi che l'importante è andare a trovare una diversificazione ora ci arriviamo che abbia senso io ho scelto ripeto il primo strumento quello coperto in euro perché il mio portafoglio di etf comunque ha un'esposizione globale e le obbligazioni me le copro tutte in euro quindi sono andato anche a investire in obbligazioni di altre aree anche obbligazioni globali non solo americane non avevo uno strumento specifico sui traresi americani e in particolar modo quindi qui stiamo parlando di quella lunghissima scadenza e quindi li ho messi nel calderone ma fanno parte di un discorso più ampio di fatti andare a comprare mille duemila diecimila centomila euro di obbligazioni a parte che diciamo va a corrispondere a quello che è il vostro grado di rischio ma anche quelle che sono le vostre risorse economiche questo è ovvio e scontato tuttavia ci devono essere delle percentuali che abbiano senso non possiamo comprare dei bond e non sapere a quale percentuale corrisponderanno in termini di esposizione su tutto il nostro portafoglio non ha senso il 7,3 il 32,8 e nemmeno lo so esistono dei modelli che hanno la loro razionalità e quindi ad esempio un classico portafoglio diversificato magari può prevedere un 40% obbligazionario un 60% azionario o anche viceversa ci sono altri modelli vedete qui va bene tutto ragazzi dal 20,80 al 30,70 40,60 di 10 in 10 possiamo arrivare anche al 90,10 quindi stiamo parlando ad esempio di quella che potrebbe essere l'esposizione azionaria rispetto all'obbligazionaria quindi è normale che più ci esponiamo a livello azionario e più siamo intesi come degli investitori aggressivi e disponibili alla volatilità anche se abbiamo visto negli ultimi anni che esporsi tanto a livello obbligazionario con dei tassi bassissimi porta alla distruzione in realtà dei portafogli più che a una diciamo che a una loro sicurezza ce ne siamo accorti se ne sono accorti tanti investitori ma in ogni caso non esiste la percentuale esatta dipende da due fattori diciamo da due o tre fattori uno dal vostro proprio grado di rischio e da quello che è il vostro target finanziario quindi quanto volete guadagnare nel lungo termine qual è il vostro orizzonte temporale eccetera diciamo l'altro appunto dipende proprio anche un po' dalla vostra età ci dicono tutti quanti i manuali che laddove voi desideraste dei portafogli diversificati più siete giovani più potete spostarvi verso l'azionario più invece avete magari i capitali importanti e anche se siete un po' anziani e più vi dovreste esporre su dei portafogli un po' più conservativi quindi il mio invito qual è? è quello di scegliervi la vostra percentuale ma che abbia senso non fare le cose a casaccio uno potrebbe decidere ok nel mio caso voglio 30% obbligazionario e 70 azionario sempre nel mio caso ok guarda mi sono convinto a prendermi anche qualche trovare su un'americana lunghissima scadenza o obbligazioni di altro natura che esposizione ho adesso cosa devo fare quanti ne devo comprare come mi devo muovere per raggiungere il mio target di allocazione ad esempio ho 70.000 euro in azioni ho 23.000 euro in obbligazioni voglio raggiungere un 30-70 non vendere nulla e un po' di soldi da parte sarà sufficiente comprarmi 7.000 ad obbligazionario e avrò raggiunto il mio 30-70 poi decidete voi all'interno dello stesso come muovervi se avere magari un po' più di lunga scadenza breve se comunque sposare direttamente dei fondi o degli ETF che abbiano un'esposizione globale e poi dedicare qualcosina di specifico agli emergenti o all'America questo è sempre qualcosa che dovete scegliere voi però deve essere tutto quanto ordinato logico e sensato andiamo ancora avanti e vedete qui l'economia americana è descritta come forte perché è vero in questo momento in termini ad esempio di lavoro di stipendi guardate ci sono delle crescite degli stipendi sicuramente importanti del 4.4% ci sono c'è una disoccupazione molto bassa qui al 3.5% ci sono sempre nuovi posti di lavoro che vengono coperti c'è offerta lavorativa rispetto alla domanda insomma ragazzi le cose vanno abbastanza bene se vediamo i lavoratori vediamo anche un S&P 500 che praticamente sta di nuovo avvicinandosi ai massimi anche se nelle ultime giornate ha avuto un po' di volatilità ha avuto qualche piccolo storno ora siamo sui 4.500 punti ma insomma dall'inizio anno un più 18% circa è veramente tanta roba quindi qualcuno che non sapesse nulla direbbe ma l'economia americana sta andando alla grandissima allora vediamo un concetto prima di discutere l'economia americana guardate noi non sappiamo quando avverrà la crisi ok sappiamo solo che accadrà il problema non è mai il se ma il quando potrebbe il mercato azionario crollare a fine anno il prossimo anno fra due anni cinque anni dieci anni ok è sempre così non lo possiamo sapere quello che possiamo sapere è che un'esposizione su un ETF come TLT quindi vi ho proposto l'alternativa europea cosa ci va a dire che non solo ci fa guadagnare laddove ci fosse un toglie di tassi di interesse ma è una forma di protezione all'interno dei nostri portafogli quando succede la tragedia nell'ambito azionale o quando accadono le crisi economiche almeno fino ad oggi è stato così io ve lo ripeterò sempre non posso mettere la mano sul fuoco non posso garantirvi nulla quello che vi dico sempre è bisogna studiare il passato bisogna essere razionali bisogna affidarsi alla statistica perché non abbiamo altre soluzioni ma il passato non può essere garanzia del futuro dobbiamo conviverci con questo e non possiamo fare altro ma in ogni caso guardate quello che è successo qui sto mettendo 2007-2008 quindi mano a mano le cose cominciano ad andare male fino a malissimo e guardate il movimento di questo strumento finanziario vedete qui ha fatto un più 60% e quindi le dinamiche in caso di crollo del mercato azionario con un S&P500 così caro sono queste sono queste quelle che noi possiamo attenderci ecco perché aiuta a avere simili strumenti all'interno del portafoglio e come dico io nell'attesa ci prendiamo comunque nel caso dell'equivalente europeo un 3,5% all'anno ora spostiamoci un po' su alcuni dati americani io vi ho parlato spesso e volentieri di quanto uno non debba essere catastrofista di quanto ci siano dei tanti motivi insoliti particolari per cui l'economia e i mercati finanziari si mostrino così resilienti le cose diciamo stanno andando abbastanza bene però ci sono tantissimi indicatori e ve l'ho mostrato e ve l'ho raccontato adesso ve ne li mostro altri li mettiamo anche tutti quanti insieme che proprio evidenziano la probabilità elevatissima addirittura quasi certa di un'imminente recessione con tutte quante le conseguenze questa è la solita relazione che vi è fra il rendimento a due anni a dieci anni dei tre americani vediamo qui quella linea quella chiara bianca e vediamo che siamo ben al di sotto delle crisi ad esempio degli anni 2000 o del 2008 e quindi questo è un indicatore che sempre ha portato alla recessione guardate quando va così in basso vedete le recessioni difficoltà economiche le possiamo anche riscontrare qua dalle colonne in arancione questo giallo arancio e vedete ogni volta che si va giù dopo seguono comunque delle difficoltà economiche o finanziarie e perché questa volta dovrebbe essere diverso in realtà l'abbiamo detto perché potrebbe essere diverso ma qui siamo pieni e pieni di condizionali quello è il problema andiamo a vedere il Wall Street Journal addirittura dice Fitch dice alla Federal Reserve di svegliarsi il declassamento del Crito mostra l'urgenza di ripensare la politica normativa fiscale e monetaria quindi insomma vuole mettere in guardia la banca centrale americana che secondo loro non si sta bene rendendo conto di dove stiamo andando e quindi qui vi mostro un altro grafico interessante ovvero è molto particolare va a indicare la capacità di risparmio non del cittadino medio americano ma associata all'economia americana stessa quindi molto particolare e guardate come sta precipitando verso il basso quindi sta raggiungendo i valori del 2008 quella della crisi finanziaria diciamo 2008 non è tanto invitante abbiamo visto anche prima un altro indicatore anticipatore delle crisi e si trova al di sotto del 2008 e già sono due indicatori insomma che vado a confermare questo un'altra cosa un po' inquietante è questa diciamo non stiamo ovviamente a livelli del 2008 per carità però se ragioniamo sull'ultimo decennio cosa vi sto mostrando praticamente qui con la colonna questa un po' azzurra blu non so come vedete voi i colori comunque con questa colonna stiamo vedendo praticamente il numero di aziende americane che stanno fallendo che sono fallete business che sono fallete essenzialmente e poi qua c'è la descrizione descrizione e vi fa capire quale tipologia di business non è che ci sta dentro anche un bar che è fallito quello no ora cosa stiamo osservando con la linea azzurra la prima parte dell'anno perché quello è il dato che è arrivato adesso e se noi mettiamo relazione con gli ultimi anni è l'anno peggiore dal 2011 compreso oggi dobbiamo tornare al 2010 poi insomma l'epoca 2009 8 quella insomma della grande crisi finanziaria quindi qualcosina sta cambiando insomma un po' di difficoltà ci sono per quanta resilienza c'è nell'economia americana qualcosa sta scricchiolando insomma dei segni di cedimento potenziale di ralentamento ci sono speriamo che vada a concludersi solo con un soft landing nulla di così drammatico però insomma fa sempre parte della di un cambiamento del ciclo economico con tutto quello che ne consegue andiamo avanti e qui stiamo osservando degli indici vedete qui NDX NDXE vedete anche qui XO items scritto così proprio ve lo sto pronunciando in italiano quindi NDX praticamente è il Nasdaq 100 NDXE è il Nasdaq 100 con all'interno le aziende che hanno il medesimo peso quindi non vi è il dominio di Microsoft Meta Google Amazon e così via e con i XO items cosa si intende gli elementi straordinari sono utili o perdite derivanti da eventi rari e insoiti che sono stati classificati separatamente nei bilanci delle società quindi questo discorso è escluso da che cosa da quelli che sono gli EPS quindi stiamo vedendo il trailing 12 mesi nello specifico gli EPS gli utili delle società quindi del Nasdaq 100 vede come vi sia un rallentamento e qui vi ha un confronto fra l'indice tradizionale e quello invece equal weight quindi quello in cui le aziende hanno il medesimo peso sicuramente le big stanno resistendo di più da quello che vedo io perché prima andavano a braccetto dal 2013 fino al 2021 e poi vi è stato uno scollamento vedete qua il 2022 quindi significa che le aziende più piccole rispetto alle grandi big si trovano più in difficoltà e hanno avuto un rallentamento in termini di utili sta accadendo inoltre con l'attuale mondo i tassi così alti che il costo per finanziare le proprie attività nell'ultimo anno qualunque attività qualunque business comunque è levitato salvo alcune eccezioni è salito in maniera straordinaria vuoi perché tutto quanto costa di più e uno deve scaricarlo sul consumatore anche fino a un certo punto perché non tutte le società se lo possono permettere vuoi anche perché proprio andarsi a finanziare ovvero chiedere un prestito a una banca o qualcosa di simile beh sì magari ce lo concedono anche ma di contro vogliono degli interessi assai più alti quindi sono delle rate e degli interessi che devono essere pagati e per le società sono a volte centinaia di migliaia milioni di dollari per quelli più grandi anche miliardi di dollari in interesse e questo è chiaro che va a dipoperare va a ridurre le capacità di utile delle aziende e questo bisogna rendersene conto quindi non c'è solo il problema dell'inflazione c'è anche questo problema e una banca centrale ovviamente se ne deve rendere conto ora andiamo un po' a vedere la somma di tutti quanti gli indicatori più importanti che ci fanno capire un po' dove stiamo messi in termini economico-finanziali e otteniamo un unico indicatore questo che viene indicato negli Stati Uniti con l'acronimo LEI guardate come sta precipitando allora guardate con la linea questa qui grigia stiamo osservando il GDP quindi il PIL americano la sua crescita va bene più o meno guardate non è così diversa da quella che magari c'era nel 2011 12 13 14 vedete nulla di così drammatico e invece con la linea blu stiamo osservando questo indicatore LEI guardate come sta ridotto male quindi parecchio sotto lo zero questi valori in quale fase dell'economia l'abbiamo incontrato a livello storico nel 2001 quindi quando ci sono state difficoltà che tutti quanti noi conosciamo lo scoppio della .com le torre gemelle insomma tutta quell'epoca disastrosa il 2008 2009 la più grande crisi finanziata della storia quindi dal 1929 fino all'epoca quindi fino ad oggi e poi quindi nel 2020 quando per legge ci hanno chiusi tutti quanti dentro casa e hanno chiuso anche tutte quante le attività o quasi è normale vedere una roba del genere ecco quindi tre drammi veramente ad oggi non ci sono drammi nell'economia eppure questo indicatore è su quei livelli di tragedia ed è un indicatore che non è accompagnato in questo momento vedete non dà una recessione qui era il quadro grigio vedete qui il minimo è stato raggiunto mentre attraversava le colonne grigie che rappresentavano una recessione quindi questo bisogna prenderlo in considerazione e da cosa è ricavato questo indice è una somma di questi altri indicatori quindi vedete ad esempio qui c'è ad esempio anche il prezzo dell'S&P 500 va a diciamo mettere un po' tutto quanto nel calderone vediamo anche vedete qui building quindi costruzioni vediamo anche case private vedete qui vediamo anche guadagno orario medio la voce della manufatturiera insomma ci sono tantissimi indicatori che sommate qui l'ISM index sui nuovi ordini lo spread che c'è sui treasury sui bond decennali andiamo a sommare il tutto e otteniamo una risultante che è presa molto sul serio è studiata dagli economisti dagli analisti e questo è il risultato vi sto dicendo che sicuramente ci sarà una recessione no quello che vi sto dicendo è che io mi sono messo in portafoglio queste azioni queste obbligazioni e ho riconciuto a prendere l'obbligazionario e nello specifico anche queste tre azioni americane per due tre motivi sicuramente perché credo che nel prossimo futuro ripeto non so se il 2024 il 2025 nel prossimo futuro ci sarà un taglio dei tassi e questo favorirà la crescita di questo strumento finanziario ma poi nel caso le cose andassero a finire male perché l'S&P 500 secondo tutti gli indicatori che abbiamo guardato tante volte è caro di certo non è a sconto perché abbiamo visto mille indicatori che urlano recessione io stesso vi ho raccontato potrebbe essere un po' diverso dal passato ma tutti urlano recessione quindi hai visto mai perché stiamo leggendo mille indicatori che hanno sempre funzionato praticamente al 100% che potrebbe scatenarsi un bel crollo nel mondo azionario ecco anche in quel caso anzi ancora di più questo tipo di investimento mi andrebbe a favorire quindi andrebbe a ridurre a mitigare le perdite del portafoglio quindi in un processo di diversificazione mentre un paio di anni fa dicevo che non aveva alcun senso comprare questi strumenti ad oggi secondo me la mia opinione potrebbe benissimo sbagliarmi a tantissimo senso e quindi ho scelto la mia percentuale e ogni tanto faccio i miei incrementi perché se incremento sull'azionario poi vado di pari passo sull'obbligazionario perché devo stabilire quelle che sono le mie percentuali poi scegliete voi se l'obbligazionario deve essere il 10 il 20 il 40 il 60 l'80% questo spetta a voi è un qualcosa di troppo soggettivo e discrezionale ora lo so ho fatto un video lungo ma vi ho proprio reso il quadro della situazione e prima di andarvi a salutare dobbiamo anche dire cosa potrebbe andare storto cosa potrebbe andare male su questo investimento rieccomi qui a schermo per cercare di rispondere alla domanda salvo restando che comunque per ora un 3,5% ci è garantito nell'attesa di qualunque cosa di qualunque dinamica quello che potrebbe andare storto è un cambiamento un po' di paradigma rispetto agli ultimi decenni quindi da una parte magari possiamo avere la possibilità che i tassi e i rendimenti obbligazionari rimangano diciamo alti non rispetto a tutta la storia obbligazionaria ma sicuramente rispetto alla storia recente quindi continuo a rendere un 4% un 5% a seconda se parliamo adesso di obbligazioni o tassi ma rimaniamo più o meno in questo ecosistema e quindi sì ci prendiamo le nostre cedole ma non otteniamo una rivalutazione dello strumento finanziario oppure chissà quanto dobbiamo attendere la cosa veramente peggiore che possa accadere è che questo cambiamento di paradigma sia ancora più importante quindi solo Dio sa perché magari cominciamo nel prossimo futuro ad avere un'inflazione al 7 all'8 fissa dei tassi di interesse al 10 e delle obbligazioni che rendono al 10 roba a stile d'anni 70 ecco in quel caso andremo a perdere soldi è chiaro sarebbe la prosecuzione in termini di quotazioni di quello che abbiamo visto nel recentissimo passato e quindi lo strumento andrebbe a perdere ulteriori decine di punti percentuali ecco questo è quello che potrebbe andare storto però necessita proprio un cambiamento di paradigma io mi baso sul fatto che negli ultimi decenni le economie non riescono a sopportare e quindi in conseguenza da un agire le banche centrali dei tassi di interesse molto alti e quindi anche delle obbligazioni che rendono tantissimo per periodi prolungati già stiamo vicini a un limite perché tutto quanto è diciamo la colpa di che cos'è di un'economia di una finanza che si basa tantissimo sul debito e sul sostentamento quindi una prosecuzione di questi livelli oltre inasprimenti rischerebbero veramente di far collassare il sistema veramente o comunque di portare tantissime aziende dalle banche alle aziende private a delle difficoltà anche alle famiglie a delle difficoltà incredibili nel finanziarsi nel pagare degli interessi insostenibili e gli stessi governi stanno sempre più in difficoltà hanno bisogno di finanziarsi viaggiano sempre su dei deficit elevate rispetto al PIL anche da qui al 2040 si parla di Stati Uniti che comunque dovranno viaggiare a livello di programmazione con un 6% di deficit rispetto al PIL quindi abbiamo sempre parlato di un'Italia con un deficit con un diciamo un debito rispetto al PIL elevato ma probabilmente gli Stati Uniti d'America in termini percentuali potrebbero anche raggiungerci o avvicinarsi tanto a noi e questo riguarda tutto quanto il mondo e se sono queste le regole del gioco capite bene che in aspiro ulteriormente o mantenere tanto tanto a lungo dei tassi così alti rende insostenibile per un governo riuscire a pagare anche per anni 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 o emettere nuove obbligazioni che debbano garantire delle cedole così elevate quindi sommando quest'ultimo punto che vi ho detto cioè dell'ecosistema e del bisogno delle economie dei governi e delle aziende vedendo le funzioni dico lo strumento finanziario ricapitolando quando il mercato azionario crolla e ci sono tante situazioni che potrebbero farci presumere di un possibile futuro crollo perché non è mai se ma quando e allo stesso tempo la necessità anche nelle classiche dinamiche dei cicli economici in un prossimo futuro non domani ma nemmeno fra mille anni quindi relativamente presto di un taglio di tasse di interesse e anche in quel senso lo strumento potrebbe favorirmi quindi per tutte queste ragioni quindi razionalità logica garanzie zero ragazzi come sempre perché non prevediamo il futuro però tutto quanto questo mi ha portato a compiere una simile scelta so che sono stato ridondante e prolisso ma sono anche certo di aver messo tutti i puntini sulle i e di avervi descritto nel migliore dei modi possibili quelle che sono le dinamiche le opportunità e i pericoli fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate cosa state facendo soprattutto se avete apprezzato questo contenuto quindi in quel caso iscrivetevi al canale e mettete un like per sostenere tutto quanto il lavoro che porto qui sul tubo io ora vi saluto e come sempre vi do appuntamento a presto e nel frattempo vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti ciao